Sventato un furto al Biscione nei pressi di Cala Scirocco a Petrosino. Erano le ore 3 di sabato 27 febbraio, infatti, quando durante un giro di perlustrazione notturno della pattuglia del distaccamento operativo di Marsala della Sigur Transport, la quale ha allertato i carabinieri che sono prontamente intervenuti, mettendo in fuga i ladri che però, nel tentativo di fuggire in maniera repentina, hanno lasciato delle tracce che potrebbero essere importanti per la loro identificazione.